Stasera il professor Franco Tomasi ci parlerà delle lettere di Torquato Tasso da Sant'Anna, il titolo è molto suggestivo, molte piatte non forniscono le lettere ma le stracce e poi le ricomincia a trascrivere. La reclusione di Tasso in Sant'Anna è un argomento che ha suscitato di interesse non solo degli studiosi di letteratura ma anche di artisti, avrete penso modo di vedere anche qualche immagine di Tasso in Sant'Anna, dipinto famosissimo della tua ma anche di altri autori dell'Ottocento, altri pittori, anche Gabriele D'Annunzio nella Casa Natale di Pescara aveva una litografia con Tasso in Sant'Anna, evidentemente questa immagine del poeta è imprigionato, un'immagine che appassiona e suggestiona molto i letterati e ce ne parla il professor Tomasi che non avrebbe bisogno di presentazioni perché vedo anche tra i presenti molti affezionati, amici e collaboratori a vari progetti di ricerca del professor Tomasi per beneficio soprattutto degli studenti, per gli studenti mi limito a poche indicazioni, il professor Franco Tomasi ordinario dell'Università degli Studi di Padova si è occupato molto di Torquato Tasso è il curatore di una raccolta di letture dei canti della Liberata oltre che di un'edizione uscita da Burra della Gerusalemme Liberata con il commento, si è occupato molto anche di poesia del Cinquecento e ha collaborato a vari prime, a vari progetti di ricerca che riguardano le rime, le lettere di Tasso e non solo anche di un'edizione del Cinquecento. Recentissimo contributo Tassiano è un articolo dedicato alla biblioteca del Tasso uscito in una miscellane dedicata agli autografi degli scartafacci degli scrittori curati da Cristian Dalvento e da Pier Musitelli, anzi Musitelli si dovrebbe forse dire, ma soprattutto Franco Tomasi è il vicepresidente del Centro di Studi Tassiano e anche il direttore scientifico della nostra rivista che fa un grande lavoro di scelta, selezione e coordinamento per gli articoli che vengono pubblicati. Non gli sottrago altro tempo e lo lascio alle lettere di Tassi in Sant'Anna. Grazie davvero per la presentazione. La mia intenzione in questa serata è di provare a fare una conversazione a voce alta con voi su un tema molto canonico che è quello delle lettere di Tocquato Tasso da Sant'Anna ripercorrendo, mi perdoneranno forse i colleghi che sono più esperti, alcuni luoghi noti, alcuni passaggi però importanti per capire la fisionomia di questo momento della vita di Tasso e della scrittura epistolare che lo accompagna e insieme se riusciamo anche o se riescono a fare qualche riflessione di portata più generale sulla pratica della scrittura epistolare Tassiani all'apporto che Tasso intreccia con la scrittura generale durante la cosiddetta soggiorna Sant'Anna. Anche il fatto di usare degli eufemismi rispetto a quella che è una sorta di prigioniere repropria dice molto della difficoltà con cui anche la critica lontana e più recente si confronta con alcuni temi. L'ultimo, che ho voluto evocare, forse conto, un po' troppo chiassoso nel titolo, è quello evidentemente della follia, cioè del Tasso che in questi anni attraversa un'esperienza che può essere anche legata dei percorsi alla follia ma che anche attraverso le lettere dà testimonianza di una sua perturbazione dell'animo, diciamo di uno stato in qualche modo difficile, psicologicamente difficile, ma su questo possiamo riarrivarci progressivamente assieme a noi. Il primo punto di partenza, l'ho già evocato nella riproduzione, è appunto il cosiddetto mito del Tasso Foll, tra biografia e mitografia, i due elementi si intrecciano immediatamente nella vita tassiana. Opposto due elementi, una testimonianza letterale e una testimonianza invece della storia dell'arte, che arrivano a due punti economicamente estremi. L'inizio e la fine, si direbbe. Il primo è un estratto dagli esseri Montaigne, sembra che Montaigne attorno al 1580 abbia visitato Tasso, non ne siamo sicuri, Tasso non ne parla mai di questo aspetto, secondo alcuni potrebbe essere un milantato credito di Montaigne che sicuramente è un viaggiato per l'Italia, ma in uno dei suoi saggi disegna la figura di Tasso, come vedete da questa citazione che vi ho presentato, come un poeta dominato dal furo poetico e per le alte vete che ha raggiunto nella creazione poetica ne è uscito devastato, distrutto. 1580, quindi Tasso è appena entrato nell'ospedale di Sant'Anna e già comincia a diffondersi questa idea di un poeta insieme geniale e nello stesso tempo schiacciato dalla sua altezza di ingegno. L'altro lato, come vedete c'è un'immagine in cielo perché già ricordo Cristina prima è della qua, siamo a pieno ottocento e è però un'immagine che ha lungo, che ha lungo, che ha larga circolazione dell'ottocento, quella del Tasso appunto poeta folle dentro alla prigioniera di Sant'Anna. Alcuni elementi, non sono storiche dell'arte, non mi avventuro in interpretazioni troppo raffinate, alcuni elementi che poi vedremo ritorno, però appunto l'atteggiamento malinconico, la disperazione, ma soprattutto le carte che vedete stanno ai piedi di questo letto e che dimostrano lo stretto legame che viene immediatamente percepito fra condizioni di segregazione e scrittura. La scrittura è in questa condizione per Tasso la strada per esistere in qualche modo. Allora, detto questo, il periodo della soggiorna a Sant'Anna inizia l'11 marzo scurata del 1579, è un momento in cui, come è noto Tasso, è a Ferrara, da in scandescenze, più o meno le testimonianze ci dicono che perde il controllo, comincia a inveire contro le persone e viene portato incatenato come furioso all'ospedale Sant'Anna, è una vera e proprio TSO, trattamento sanitario e applicatori, che viene fatta una persona che evidentemente penso controllo. Però mi permetto di ricordare rapidissimamente come si arriva a questo momento e che cosa vuol dire la follia di Tasso a questa altezza. Indubbiamente l'episodio che abbiamo citato è un episodio platealmente chiaro di un disagio, un disagio che non può che condurre ad una sorta di segregazione. Tuttavia partirei almeno dal giugno del 77. Nel giugno del 77 Tasso è qualche ricorda a Ferrara e apparentemente vive una situazione lieta, felice e a bel riguardo e già però si sottopone delle cure mediche sarassi per una sorta di terapia, diciamo così, di controllo, di un umore che si va facendo via via più inquieto. In questo periodo Tasso manifesta come è noto delle profonde incertezze sul piano religioso. Autonomamente si sottopone all'esame dell'inquisitore di Ferrara per sottoporre i suoi dubbi di fede. Dubbi di fede che sono dubbi importanti, dubbi che hanno attraversato tutta la stagione del cinquecento europeo, la salvezza verso la fede o attraverso le opere e tutta una serie di temi che la Tasso, a leggere anche le sue lettere, che documentano questa sua riflessione, affronta quasi da filosofo. Non è, come dire, l'incertezza dell'eretico che vuole rompere i confini, ma è un filosofo che riflette su questi temi e che ha delle incertezze. Questo elemento, che va ricordato, ha però delle ricadute più complesse, non è solo una crisi spirituale o una difficoltà tassiana. Innanzitutto comporta il sentore da parte di Tasso di essere vittima o di adedivare in una corte in cui queste idee vengono, serpeggiano, in cui sono vive e ne parla direttamente con l'inquisitore. Non appena il duca di Ferrara sa questa cosa, diciamo non la prende bene, va su tutte le furie e per dire esse ragioni, ma ce n'è una profondamente politica. Lo stato di Ferrara è uno stato che rischia di essere annesso allo stato pontificio se il duca non avesse una rete maschile, ma non è solo questo il problema. Nella generazione precedente Ferrara era stato, soprattutto per la figura di Renate di Francia, un luogo di fatto che aveva ospitato figure di Chiara ispirazione della Dossa. Quindi la Chiesa Romana non guardava in buon occhio quell'ambiente, il duca aveva gran bisogno di apparire perfettamente come dire ortodosso e si può capire come sia decisamente imbarazzante dal punto di vista anche politico questa esplicita presa di posizione tassiana che può emergere dal confine ristretto del duca. Tant'è che lo stesso duca chiede affannosamente all'inquisitore se ci sono dei verbali di questo interrogatorio, se è rimasta traccia scritta che lo preoccupa e soprattutto immagina che l'unica soluzione per risolvere il problema sia quella di fare una sorta di attestato, mettiamola così, di impazzia di tasso. Questa irrequietezza religiosa nasce da il caso simbolo, da un caso che si può risolvere solo dicendo che è un caso di furore del simbolo. Già capite che attorno dentro a questa definizione di un tasso che perde il controllo il quadro si viene complicando, c'è una miniatura evidentemente politica che il tasso forse maldestramente finisce per accendere, per sollevare il suo malgrado non finisce per essere chiamato, viene a infilarsi in questa situazione. Procedo rapidamente in questa piccola carrellata che ci porta appunto dall'estate del 77 all'esplosione del marzo del 79. Tasso vive con crescente irrequietezza la sua collocazione a corte, è una collocazione di cui lui sente sempre più stretta, sente di essere in qualche modo vittima di qualche complotto e da un lato lo manifesta, tra l'altro in modo anche un po' aggressivo e violenta, e dall'altro lato continua ad allontanarsi da Ferrara, talvolta fuggendo da Ferrara per cercare la sistemazione altrove, cioè affannosamente alla ricerca di un nuovo approdo cortigiano. Il pendiode fosse più interessante da questo punto di vista è quando l'inchiuso Ferrara fugge, se ne va e raggiunge poi la sorella Sorrento. Su questo episodio è un altro piccolo passaggio che ci serve per capire come una certa anedotica abbia finito per costruire il mito di Tasso, mentre Tasso va dalla sorella a Sorrento, un racconto aiuto, alimentato da Manso e poi a cui è stato dato grande credito fino a Sorrenti stesso, vuole che Tasso sia arrivato dalla sorella sotto il mitito e spoglio, travestito e abbia dato alla sorella notizia di fratella forse quasi morente, per verificare quanto la sorella fosse in qualche modo, gli volesse bene, mi chiamola così banalmente. È un racconto che come ha notato anche Bravo e Gigante si costruisce su grandi precedenti letterari, Ruiz, Caetone, insomma ha una traccia di grande mitografia evidentemente, la realtà forse era molto più banale. Tasso fuggiva da un bando di Ferrara, era un fuggitivo, nel viceregno di Napoli non poteva mettere preso ufficialmente perché non era il padre precedente, quindi aveva bisogno di girare in qualche modo travestito. Rimane però per un periodo presso la sorella, poi rientra nuovamente a Ferrara e riparte per un tour, chiamiamolo, attorno alla città, attraverso la città italiana, che lo porta in diversi luoghi, tra cui mi piace ricordare un luogo che è Tesaro, quando cioè cerca di approdare la corte di Borbino. Quando arriva qui sempre alla ricerca di una soluzione dei suoi problemi personali e professionali, tasso un cortigiano, ha bisogno di collocarsi in una realtà anche politica precisa, ma deve, come dire, riuscire a sposare anche gli interessi della corte. Dicevo, mentre sta arrivando a questa corte, scrive una canzone, è una canzone che gli studiosi stassiani conoscono bene, prende il nome da un piccolo posto d'acqua che corre vicino al peso, la canzone Al Metauro. È una canzone che pone i problemi interpretativi, indubbiamente, tant'è che nel corso del tempo la critica ha cercato di risolvere in modo diverso questa canzone. È una canzone interrotta, Tasso non la completa, ma è una canzone in cui la persona del Dio, cioè la maschera del Dio, che si rappresenta attraverso il linguaggio lirico, sembra in qualche modo rompere le convenzioni. È una canzone in cui Tasso si disegna come l'esule, colui che ha dovuto abbandonare il suo nido familiare da piccolo, ha perso la madre mentre era lontano, ha perso il padre molto presto, e sta cercando disperatamente un porto al quale approdare. Le tessere che sono distribuite in questa canzone costituiranno, come dire quasi delle parole chiave, che puntelano tutto l'epistoraria di Sant'Anna. Cioè costruiscono quella immagine che lo stesso tasso produce in se stesso, si rappresenta appunto come l'uomo che subisce l'ingratitudine del mondo, che ha subito dei grandi tracolli di fortuna e che non riesce a trovare quiete da nessuna parte, che è bisognoso di un luogo, qualunque esso sia, che gli consenta di fare ciò che vuole fare, cioè scrivere, fare letterature si potrebbe dire. E questo è una specie di refrain che ritornerà, ritorna rapidamente quella supersintesi che gli sta proponendo la biografia Tassiana, quando Tasso, convinto dalla eminente terza nostra del Duca, torna a Ferrara, appunto torna nel 1979 e qui scoppia questo episodio di intemperanza Tassiana, forse dovuto al fatto che, così pare, Tasso non fosse stato accolto con gli onori che si aspettava di dover avere. Ora, proviamo un attimo a vedere la storia della parte, non di Tasso, ma del Duca. Tasso prima va dell'inquisitore, poi continua a fuggire nel tentativo di trovare casa altrove, torna difficilmente, si può immaginare che non accolga la braccia aperta, o meno figlio al pronico, però insomma è chiaro che c'è del risentimento nei confronti di questa figura ed è chiaro che la soluzione della carcerazione della Sant'Anna è un modo per togliersi un problema. E la durezza con cui nel primo periodo di Sant'Anna a Tasso viene trattato è anche il frutto di tutta questa lunga trafila di incidenti, diciamo così, e di passi falsi che Tasso compie dal punto di vista squisitamente professionale, cortigiano. Allora, riprendo un'altra immagine cortocentesca di Tasso Sant'Anna perché, come recita un bel titolo, il titolo di pensaggio di Mario Luisa D'Oglio, Sant'Anna è anche un luogo in cui per esistere bisogna scrivere. Tasso si trova davvero in una condizione di un lungo periodo di anni in cui la sua esistenza è fortemente vincolata alla scrittura. Sono scritture dal carcere. Per il primo anno sappiamo che le condizioni di tasso sono estremamente rigide. La sua corrispondenza anche pistolare viene di fatto controllata da due, viene censurata in entrata in uscita per verificare il contenuto di queste lettere di una persona che si è dimostrata incerta e pericolosa. Dall'altro lato però la scrittura è il mezzo per sopravvivere per Tasso e il sopravvinto è il mezzo che risolve la sua situazione. Scrivere per esistere, appunto, come diceva Mario Luisa D'Oglio, scrivere per risolvere anche la situazione. Allora, piccola parentesi di carattere, se volete, un pochino più scolastico, perdonate la digressione, ma che ci è utile rispetto al discorso che vorrei, che sto cercando di attraversare con voi. Le lettere tassiane non vengono mai pubblicate nel Cinquecento per volontà dell'autore. La storia del rapporto fra editori e autore, nel caso tassiano, è una storia che deve essere il tasso perdente. Sono sempre gli editori ad avere la meglio, cioè a prendere iniziativa e, in qualche modo, ad anticipare le strategie e le prospettive che Tasso ha anche rispetto all'edizione delle lettere. Noi sappiamo, è più di recente grazie ai studi di Milio Russo, che Tasso a un certo punto pensa all'estire una propria raccolta di lettere. E questo ci permette di fare un'altra piccola osservazione di carattere più generale. Il Cinquecento, come è noto, è il grande secolo di libri di lettere. Lo ricordavo proprio a un tempo che citavamo prima, all'inizio. E i libri di lettere costruiscono, al di là del modello rettiniano, che è un modello in qualche modo stravagante rispetto alla tradizione, sono costruiti secondo una doppia istanza. La prima è quella dell'esemplarità linguistica, sono dei grandi modelli di scrittura, i grandi modelli che vengono letti per apprendere. È la strada che porta poi alla manualistica del segretario, alla manualistica dell'apprendere la scrittura. L'altra, che è anche un'estremamente affascinante strada che si percorre, è quella dell'autoritratto attraverso le lettere. La rappresentazione del sé attraverso le lettere. È un modello che si viene codificando, nella prima volta del Cinquecento, a modo molto forte. E uno dei grandi codificatori è proprio il padre, dito il quattro passo, Bernardo, che pubblica la sua raccolta di lettere, che effettivamente cerca di armonizzare in modo perfetto queste due istanze. La rappresentazione dell'intellettuale, potremmo dire, che lavora anche nella dimensione politica e anche nelle sfortune politiche, dimostra la sua saggezza, e il letterato che propone il grande modello di scrittura di un classicismo volgare che intende imporsi alla platea. Rispetto a questo modello, come si colloca Tassio? Come la scrittura epistolare Tassian, anche se non abbiamo un suo libro autoriale che arriva? È un caso, effettivamente, di una certa eccezionalità, che, via via che procederemo alla lettura, spero di illustrare. Non sposa perfettamente la linea del modello, in parte la sposa compone un trattato intitolato del segretario, e quindi si propone per la professionalizzazione della scrittura che, attraverso l'epistolografia, viene manifestandosi nella seconda metà del Cinquecento, ma non riesce a dare vita a questo libro. Che cosa fanno nel frattempo gli editori? Dalla vita a delle dizioni, tra virgolette, pirata, chiamiamola così. Cioè, inizia una tradizione delle lettere, che va sulla scia, però, le lettere del Cinquecento, che vi parlavamo prima, che seguono due filoni precisi. Il primo sono le cosiddette lettere poetiche, è il fatto spizio che vedete qui, sono delle lettere legate alla polemica che viene nascendo fra giustisti e tassisti, e sono le lettere che Tasso ha scambiato con i revisori, i cosiddetti revisori romani, mentre stava, come dire, lavorando alla revisione del suo poema in vista della stampa. Una revisione che, come sappiamo, non giunge mai a conclusione, ma che sostanzialmente costruisce un fitto epistolare fra Tasso che sta a Ferrara e i revisori che stanno a Roma, di carattere esquisitamente letterale. È lo stesso Tasso che, nelle lettere, in una delle lettere scritte al suo segretario, Luca Scalabrino, osserva che le lettere, come dire, sarebbe bene conservarle, perché le osservazioni che lui stesso sta facendo, rispetto alla teoria letteraria, sono di un valore non così scontato. E sono lettere estremamente significative, perché Tasso si dimostra grande e abile e diplomatico. Un po' come accade con i grandi giocatori di scacchi, che quando si trovano a giocare con una platea di lettanti si permettono di giocare con più giocatori contemporaneamente. Non so se li avete mai visti, ma c'è spesso un tavolo fatto buco e il grande giocatore passa di scacchiere in scacchiere a fare la mossa e va a quello successivo. Tasso lavora durante la revisione romana in modo analogo, cioè scrive attraverso Scalabrino ai diversi revisori cercando di capire qual è la loro posizione e assumendo una sua posizione. Quindi sono lettere molto interessanti, però, rispetto a quello che sto dicendo in questo momento, sono centrate su una tematica esquisitamente letteraria. Sono lettere di letteratura, parlano di letteratura. L'altra strada che viene percorsa dalla tradizione è quella delle lettere familiari. Vengono pubblicate anche queste senza una esplicita autorizzazione da parte di Tasso e vanno nella direzione, come il titolo sembra suggerire, delle lettere appunto dell'autoritratto. Le lettere che indugiano sulla dimensione privata, sulla dimensione degli effetti, sulla dimensione della costruzione del sé attraverso della scrittura. È un po', non mi soffermerò troppo su questa edizione, ma è un po' curioso perché in realtà questa raccolta di lettere è assai poco familiare, anche secondo i principi e i criteri cinquecenteschi, perché ritrae soprattutto il tasso segretario, il tasso che scrive lettere di mestiere. Tuttavia è comunque una doppia tradizione che continua e arriva fino ai giorni nostri. Da un lato lettere che testimoniano la vita privata, dall'altro quelle che hanno interessato e continuano a interessare gli studiosi per i dati più concreti e materiali sulla riflessione poetica che il tasso propone. Quando leggiamo noi oggi le lettere, che questo è una specie di ritornello che tutti gli studiosi tassiani continuano a ripetere, speriamo che tra un po' non si ripeterà più, e cioè la condizione pirologica della vita del tassiano è sostanzialmente disastrosa o estremamente critica. L'ultima vera grande edizione è quella di Cesar Iguastri, come vedete qui, un'edizione un po' fatta nell'Ottocento, un'edizione che ormai da molto tempo gli studiosi hanno riconosciuto come limitata per errori di datazione, problemi soprattutto di inserimento di testi non sicuramente tassiani e tutta un'altra serie di problemi editoriali che falsano un po' il dato storico. L'altro grande momento della costruzione del studio delle lettere tassiane è quello legato alla figura di Angelo Solerti, un grande studioso tassiano, un impressionante studioso tassiano, Solerti in modo davvero giovanissimo e fa impressione vedere quando si è riuscito a scrivere e soprattutto a raccogliere rispetto a tassi. Solerti raccoglie un altro nucleo di lettere ma soprattutto va detto che tutto l'impianto biografico che Solerti costruisce nella sua enorme vita è basato sull'epistolario. Allora, quell'epistolario che forse ha dei problemi filologici, che forse per quanto riguarda l'adattazione non è così solido, mette in qualche modo noi studiosi in allarme perché va verificato di volta in volta la certezza di alcuni dati. Da ultimo, lo studio che citavo in precedenza è quello di Emilio Russo, che da tempo ha iniziato a lavorare attorno alle lettere in pista di una nuova edizione, questa volta speriamo criticamente e filologicamente solida e inappuntabile. Uno dei primi esiti, oltre dopo un intervento saggistico, è l'edizione del cosiddetto minutario estense, cioè un materiale estremamente composito e disordinato che lascia vedere un tasso all'opera per allestire un proprio libro di lettere. I tanti progetti destinati, i tanti cantieri lasciati a metà da parte di tasso, molte volte lasciati a metà perché superato dagli editori, gli editori li rubano a tempo, già producono una raccolta, diventa in qualche modo quasi già vecchia quando tasso ci sta lavorando. Allora, per quanto riguarda la distribuzione temporale delle lettere, il rapporto in modo molto sintetico e con una micro-approssimazione che vi credo di perdonare, la distribuzione delle lettere. Noi abbiamo pochissime lettere nel periodo giovanile di tasso, è una mancanza che si sente, diciamo, per gli studiosi, perché è una fase molto importante, la fase ad esempio del concepimento era liberata in molti passaggi. Abbiamo invece un corpus significativo di lettere proprio del periodo in cui ci siamo occupati oggi, cioè di Sant'Anna e infine, un altrettanto corposo nucleo, della sagione successiva a Sant'Anna. Quindi comunque le lettere del periodo della prigionia sono quantitativamente numerose. Sono numerose e complessivamente non sono poche, 1700 lettere, ma sono sicuramente poche se si pensa alla frequenza con cui tasso ricorre alla scrittura epistolana. Ma ne abbiamo, vuoi per la vita errabonda, vuoi per la caratteristica di un certo disordine con cui tasso gestisce le proprie carte, queste sono quelle sopravvissute, si direbbe, a quella poca stagione. Allora, una ulteriore piccola premessa prima di cominciare a vedere qualche letta concretamente. Quando, anche questa è una notazione se volete banale, ma forse altrettanto importante prima di vedere le lettere loro insieme. Quando tasso viene imprigionato in Quartamoso nel 1579, a dire la verità, rispetto alla platea dei letterati italiani, è un autore che ha pubblicato quasi nulla. Nel 1579 tasso ha pubblicato una raccolta di grime giovanili all'interno di una raccolta di una siloge con altri, ha pubblicato piccole cose, ma non ha pubblicato ancora nulla. È un autore, in qualche modo, che non ha conosciuto la grande fama così tanto ricercata. Quando comincia la fortuna, diciamo così, anche editoriale del tasso letto, dopo la sua entrata a Sant'Anna, viene pubblicata la liberata in modo abusivo contro la volontà tassiana, con un commercio non sempre chiarissimo fra chi riesce a fare che cosa, ma sicuramente contro la volontà di tasso. E poi, nel corso della sua prigionia, le prose e rime, una vera e proprio come best seller, che invadono il mercato editoriale, pubblicando in modo sempre o quasi sempre non autorizzato dall'autore, testi in prose e rime di tasso. Quando tasso quindi chiude la sua parola a Sant'Anna, paradossalmente è un autore affermato, ma si afferma nel momento in cui si comincia a diffondere anche l'immagine del tasso del poeta alienato, del poeta malinconico che sta in carcere e che ha perso il controllo della sua produzione letteraria e della sua, diciamo, dimensione professionale. Allora, tutto questo ci permette finalmente di arrivare alle lettere da Sant'Anna. Che cosa ci dicono queste lettere? Che appunto sono lettere della prigionia, sono lettere di qualcuno che è costretto, suo malgrado, a vivere fuori dalla società e con delle limitazioni che, a dire, la verità diventano, vengono orientate un po' nel corso del tempo e che tuttavia sono molto forti. Non se ne può andare, è vincolato, come dicevo prima, nella comunicazione con l'estero, la sua corrispondenza è controllata e quindi deve, e nel contempo sente, come dire, questa crescere della sua fama, ma sente, e questo sarà uno dei tratti che continuerà a ripetere, sono l'ultimo giorno della sua vita, di non aver potuto godere, anche economicamente, di questa fortuna. Si sente come scippato di questa fama che si viene costruendo. Allora, le lettere hanno molte finalità all'interno degli anni di Sant'Anna. La prima finalità è quella della richiesta di soccorso, la richiesta di aiuto. Tasso attraverso la propria opera letteraria cerca di uscire dalla sua condizione e lo fa in modo insistente, la lettura continuativa delle lettere, come dire, un refrain che torna quasi una lettera su due, richiedendo ai vari signori a cui scrive un aiuto, un'intercessione, dei doni per migliorare la propria condizione in quel momento e soprattutto una possibilità di allontanarsi da Ferrara, quindi una mediazione produca per allontanarsi da Ferrara. Tutto questo implica però da subito il ruolo di Tasso Poeta. Tasso scrive in questo periodo una quantità enorme di testi, specie di natura ecomiastica, che servono a Tasso strategicamente per tenere vivi i contatti con le varie signorie d'Italia. Sono una sorta di merce di scambio che Tasso usa per tenere viva l'attenzione dei suoi destinatari per continuare a richiedere una sorta di aiuto. Da questo punto di vista è vero che la lettura del testi mostra quasi una sorta di ripetitività, ma è anche angosciosa questa ripetitività. Vi ho proposto una lettera in via Massorella nella quale Tasso, come dire, riconosce le sue necessità e riconosce anche la difficoltà della condizione, ma questo non impedisce di continuare ad avanzare le richieste. Dice, la lettera di vostra signorierata, il mio racconte, il mio racconte è protessone, ma ha portato a grandissima consolazione. Una piccola osservazione rispetto a questo. Tasso, in tutte le lettere, non è solo la topica di questa fotografia, si dimostra estremamente ansiosa di ricevere lettere, perché, ancora una volta, è il contatto con il mondo. È davvero, e fuori dalla topica delle normali della retorica, un dialogo fra assenti. Perché Tasso è inevitabilmente lontale sull'interlocutore e ha bisogno di mantenere un contatto epistolare fittissimo per mantenersi vivo, si potrebbe dire, per dialogare continuamente con tutte quelle figure che immaginano possono essere di aiuto. e continua, me la ringrazio e me la raccomando. La prego che voglia affaticarsi perché io esca di prigione. In questo caso è una volta più diretta la richiesta. Insomma, c'è una richiesta di aiuto costante che nel corso del tempo non viene mai scalfita. Tasso sente questa condizione come una condizione insostenibile. Vado avanti un po' per tutte le mosse politico-diplomatiche che suggerisce affinché questa istanza venga soddisfatta. E mi interessa leggere per voi il commentare il capoverso finale. Di roba, sono tanto cupido, quanto basta vivere come conviene. C'è un'esigenza anche materiale. Tasso più volte ribadisce la necessità di avere libri, di avere una condizione che gli consente di vivere decorosamente. E mi cresce la mia fortuna, la mia fortuna, ma abbia dato occasione di permiso a tutti voi. Quando io speravo di notare, dice, si rovesce nei ruoli, io speravo di essere per voi il sostegno, invece siete voi adesso per me. Ma è pur meglio essere ridato dai suoni che dagli strani, cioè meglio che i familiari tienono la mano piuttosto che chi sta fuori, i quali usano il meco ogni maniera di atterezza e di orgoglio. Si costruisce in questa conversazione intima, familiare davvero, però questa idea è la fortuna, provesce, al che combatte contro l'animo tassiano, ripercorrete tutta una serie di elementi topici, e l'atteggiamento ingrato di chi gli sta a fianco. Gli altri usano con lui alterezza e orgoglio. Tasso si sente continuamente, orgogliosamente, offeso di non essere riconosciuto per le sue qualità. E talvolta anche nei confronti greti, anche con le figure, diciamo, più autorevoli, che non manca di argomentare contro questa punizione che ritieni ingiusta, profondamente ingiusta. Da questo, come dire, sulla scorta di questa richiesta di aiuto, comincia in mezzo della lettera quell'autoritratto di un poeta malinconico, di un poeta che ormai, in virtù della condizione che sta vivendo, ha cambiato definitivamente il suo nome. È un ritratto che riprende, appunto, quelle tessere lessicali e quegli elementi, anche proprio di autorepresentazione che vi dicevo prima, emergevano dalla canzone alla metà. È un tasso che parla di se stesso e si dimostra ormai, in virtù della condizione in cui si trova, mutato in modo definitivo. Ho portato due testimonianze. Una è la lettera Scipione Gonzaga, il grande mecenate e interlocutore del tasso. Se andiamo a vedere la parte che ha vitenziato in rosso, dice, però che sono stanco e quasi sazio del mondo, comincia a emergere quella figura che poi il tasso trasferirà, spesso nei dialoghi, è la maschera dell'intellettuale, il poeta, del filosofo, anche se si allontana dal consorzio umano, che è stato stancato da un mondo che lo ha tradito. E di un'altra cosa, più desideroso, che è di quiete, non di scompagnata da reputazione. La quiete è il riconoscimento del mondo, la quale non andrà ricercando, con molto studiore, né con molto studio. Quindi un atteggiamento quasi di disdegnoso distacco dalla realtà. Secondo, invece, piccola testa che ho prelevato, è interessante e l'ho riportata perché gioca retoricamente ancora una volta a presentare questa situazione di infelicità in qualche modo costitutiva che il tasso si trova a vivere all'interno della prigionia. È una lettera marfisa da essa in cui si diverrà allegrate la nascita di un vinto. quindi, teoricamente, un bigliettino di felicitazioni. Eppure, pur assorbendo il suo compito retorico e comunicativo, il tasso inserisce un piccolo cameo, un ritratto della sua condizione. Dice, direi di esservi all'allegrato del nascimento del figliolo di vostra signora illustrissima. Se da questa mia maricoglia potesse avere in me vuol qualcuna allegrezza. Cioè, sono in una condizione tale che non è possibile per me l'allegramento. Ora, è una sorta di curioso bigliettino d'omaggio perché nel momento in cui il poeta omaggia appunto il nobile, nello stesso tempo, proietta anche l'immagine di se stesso dentro a questo rallegramento, di un uomo che non può rallegrarsi, data la sua condizione. E continuo con un gioco che avete anche argomentativamente sempre più articolato, e direi di rallegrarmi con il soleil, se, non rallegrandomene in me stesso, potessi rallegrarmi con tu. Viderlo dunque, piuttosto che non possa partecipare, da alcuna allegrezza di sé. La risolve con un gioco raffinato dal punto di vista argomentativo, ma ciò che mi interessa osservare è come Tasso riesca, in queste lettere, continuamente a produrre questa immagine di sé, che diventa costante tanto nelle lettere di negozio, cioè quelle più pratiche, quanto in lettere più ufficiali, che accompagnano questa scrittura nella prassi quotidiana. Dall'altro lato, però, abbiamo detto che la prima esigenza è quella di un aiuto, di un aiuto che si accompagna alla costruzione di un'immagine di sé. Però, questi anni non sono anni, come talvolta si è ripetuto, di stanchezza, di depressione, di infelicità, oppressione, addirittura di sterilità. È un periodo straordinariamente fertile per Tasso. Tasso è estremamente lucido in questa fase, compone una quantità veramente considerabile dei dialoghi, compone moltissime linee. Io non mi ho riportato citazioni di queste delle rime, ma una lettera su due sono rime che invia qualcuno in omaggio. Mi vengono richieste e vi continuo a spavare linee, con un ritmo veramente sostenutissimo. Nello stesso tempo, matura un rapporto ambiguo, ma attento a ciò che accade nel mondo dell'editoria. Da un lato, per interessi privati, vuole anche capire e qualche modo che volete recuperare ciò che da tutti questi provventi potrebbe venire, ma dall'altro di tutelare le sue opere. Cioè di dare all'istante qualcosa che finalmente lo possa soddisfare e non sia invece frutto di un arbitrio, di un abuso da parte dell'editoria. Questa lettera che vi ho riportato, non volevo farmi vedere le copie, poi vi torno a scuola di prima. E Bernardo Giunti è una lettera interessante perché ci permette di vedere due aspetti insieme. Tasso ringrazia Bernardo Giunti che gli ha inviato le libri. Tasso in questo periodo scrive continuamente chiedendo libri. Tasso fa delle campagne di lettura straordinarie in questa fase. Vuoi per la composizione dei dialoghi, vuoi per le sue rime, ma insomma è continuamente attivo sul fronte della scrittura. E ringrazia Giunti per avergli mandato questi libri e nello stesso tempo si ritrae dalla richiesta che evidentemente gli era arrivata di avere qualcosa da stampare di suo, di Tassiano. E Tasso dice, ma sono no fondamentalmente, però guardate in questa strategia retorica della lettera che gioca con grande finezza a dire e non dire. Nella seconda parte che ho evidenziato, Tasso ci dice, Tasso dice all'editore, frattanto faccio della stampa di quelli che ne hanno nelle mani ciò che le pare, cioè dei miei materiali, io di nuovo non me li mando. Tuttavia se ne ha qualcuno, faccio ciò che vuole, che io non impedisco e che in altra cosa posso servirla, mi comandi. Allora il rapporto ambivo di Tasso non è un rapporto sempre censore a dire con fronte agli editori di Tasso, in particolare con Aldo Manuzio in questa fase, cerca di costruire una collaborazione. Si sente tradito, ma nello stesso tempo favorisce, fa uscire alcuni materiali dalla sua, da Sant'Anne. E quindi anche questa dinamica fra volontà d'autore, volontà d'editore, si confonde, si mescola, ci mette anche a noi studiosi e filologi, talvolta in posizione non così perentoria rispetto ad alcune scelte editoriali fatte nel corso del tempo. Torno alla citazione di prima, la citazione di cui tutti gli studiosi di Tasso abusano perché troppo divertente, Tasso ormai è arrivato quasi alla fine della sua prigionia e si lamenta, si lamenta come editore, dice, leggiamo rapidamente la lettera, è possibile che non vogliate accontentarvi di tanti dispiaceri senza procedere più oltre, cioè aver stampato così tante cose mie in modo scorretto. Voi avete fatto stampare tante opere mie scorrettissime e non mi avete donato cosa alcune. Due problemi. Uno, filologico, diciamo così, le opere sono uscite malconce, secondo, io non ci ho guadagnato nulla. Sono due temi che per Tasso vanno sempre intracciati. E anzi, non mi avete pure dovuto pagare quel che dovevate, ora volete accrescere le mie disperazioni con lo stampare queste lettere. Torno al tema delle lettere. Anche qui faccio una brevissima digressione. Cioè, quando esplode il fenomeno editoriale delle lettere nel Cinquecento, gli editori vanno letteralmente a caccia delle lettere. Ci sono testimonianze molto cereali di Ptolomei, di Caro, che sono terrorizzati, diciamo così, da inviare lettere. Dino, attenzione, ti invio questa lettera, ma mi raccomando, nascondila subito, perché ormai gli editori, appena afferrano una lettera di qualcuno che loro sembra interessante, la pubblico immediatamente. Quindi, corriamo il rischio che la conversazione privata diventi pubblica. Questa è un tema molto importante. Quante delle lettere di Sant'Anna per Tasso dovevano essere pubbliche? In diversi passaggi delle sue lettere da Sant'Anna, Tasso esplicitamente dice queste cose tenetele per voi. Se dovete leggere la mia lettera a qualcuno, selezionate. C'è una differenza, ecco quello che dicevo prima, il rapporto tra libri di lettera del Cinquecento e la scrittura epistola di Tasso. Tasso ha un doppio registro, in cui è estremamente consapevole. Ci sono cose che possono emergere, eventualmente, poi al pubblico, altre, che sono destinate alla conversazione più intima e privata. Ora, proseguiamo. Mandatela almeno prima a ciò che io le riveda. Ancora una volta vedete questo gioco. Non stampatele assolutamente. Se proprio le volete stampare, mandatela a me che le rivedo. Quindi vi dico di no, ma al resto del tempo, forse sì, se io le posso rivedere. E fate che io conosca in questa castina tale qualche segno di pentimento a ciò che io possa vivere più lietamente che non ho fatto molti anni. Il Tasso vuol che sia donato da tutti. Da grandi, per timore che non indica male. Da piccioli, per tema che non faccia loro. Voi mi vedrete un giorno con un atti bugetto al fianco e con un altro nella bisaccia. E con la spada o con uno spiego in spalla. Come vanno gli scherani? Ed avrete occasione di guardarvi se non cercate di placare il mio sdegno. In maniera giocosa, della poeta che va con un fucile per minacciare il tipografo, rientra però in un rapporto quasi scherzoso con l'editore. Ma in conclusione vi prego che mandiate queste vostre lette a ciò che io le rivedo. Ma fin fine è una sorta di autorizzazione implicita, purché io le possa rivedere. Quindi, grande attività intellettuale, grande fervore intellettuale, altro che appunto il tasso a fucile, un tasso estremamente lucido dal punto di vista dell'Italia, sia per le opere che produce, sia per le strategie encomiastiche che è in grado di costruire. che talvolta magari confondono in due piani, ma sempre in grado della necessità di uscire dal luogo in cui si trova. Voilà. E un'altra lettera ci illustra il rapporto, diciamo, follia, che è un tema che Tasso continuamente evoca. Si difende da questa accusa e qualità letterale della propria produzione. In questa lettera, Tasso ci dice, appunto, è bizzarro che io debba giustificare, che io debba testimoniare la mia sanità mentale. E lo farò, dice citando un esempio classico, come si dice abbia fatto soffrire quando i suoi figli l'avevano accusato di essere folle. Gli ha presentato, leggo il po' a colonna, e tutti hanno detto, va bene, non si discute più. Allo stesso modo, è un gioco, come vedete, anche di controfigure dell'antichità. Farò io, vi mando due dialoghi che ho appena composto, sarete voi a giudicare se sono un alienato o un folle, o se invece la qualità della mia scrittura non testimonia il controllo. La mia capacità ti pote mangiare le mie competenze, anche letterali. Questo implica, però evidentemente, ancora una volta, la possibilità di uscire da dove ci si trova. E per Tasso, ancora una volta, l'invio di lettera, la dedica di opere è estremamente funzionale a questa strategia. Infine, arriviamo ai testi che costituiscono i classici, i grandi classici, della rappresentazione della follia di Tasso. Cioè, i testi che effettivamente sembrano testimoniare uno stato di alterazione di Tasso. Non sono molti. Quindi, la prima osservazione che va fatta è che sicuramente, come dire, chiaramente leggibili in questa direzione sono tre lettere per ogni settecento che abbiamo, che già ci dice, come queste tre lettere abbiano avuto un ruolo veramente straordinario rispetto al resto dell'epistolare. Sono diventate, appunto, il Tasso Fone, la manifestazione di uno stato di alterazione, come se tutte le lettere fossero così. La prima, ma leggiamo rapidamente perché è in qualche modo, tra virgolette, anche gustosa nella sua descrizione, che è quella da cui ho trovato la citazione. Dice, sappia, dunque, che questi magici, insomma, che continuano ad avvertire, sono di due sorti, umani e diabolici. Gli umani sono grida di uomini, in particolarmente di donne e di fanciulli, e rise, pieni di schermi e varie voci di animali, che dagli uomini, per inquietudinomia, sono già, sono agitati, e strepti di cose inanimate che dalle mani degli uomini sono mosse. Ci sono i rumori che sente. E gli aboli sono incanti e malie. E come che dagli incanti non sia assai certo, perciò che i topi, dei quali è pieno la camera, che a me appaiono indemoniati, naturalmente ancora, non solo per arte diabolica, potrebbero far quello strepido che fanno. Ed alcuni altri suoni che io odo, potrebbero adumare l'artificio, come a sua cagione, essere regati. Non di meno, mi pare assai certo che sono stato ammagliato. Il timore di essere, in qualche modo, ha subito questa specie di maledizione. E le operazioni della Maria sono potentissime, con ciascosa cosa che quando io prendo il libro per studiare la penna, odo a suonarmi le orecchie di alcune voci nelle quali quasi distingue i numeri di Paolo, di Giacomo, di Girono, di Francesco, di Fuglio ed altri, che forse sono maligni e delle mie a quei tempi idrosi, cioè c'è qualcuno che trava contro di me, ma scendono ancora, più in quel tempo che in alcun altro, molti vapore la testa, quantunque a sei volte scrivo innanzi al mangiare, in modo che i fantasmi nessuno sa è perturbati. E se avviene che con questi interni impedimenti si accordino agli esterni, per riferimento alla materia degli umori, come più delle volte avviene, mi muovo a dire grandissimo, e molte fiate non forniscono lettere, ma le straccio, poi le ricomincio a trascrivere, quindi questo ha fatto che molte copie erano stracciate e molte ricominciate. Allora la descrizione che fa il suo strato di alterazione non lascia comunque il suo momento di difficoltà. Ora, se volete forse l'elemento più quasi curioso per noi lettori moderni, che è la conclusione di questa lettera, a Cataneo tra sostanzialmente dice, però se io volessi stare tranquillo, vi assicuro, potrei fare il segretario a scrivere tutte le lettere che servono. Ora, offrirsi come segretario per scrivere le lettere dopo aver detto che si è vittima di queste difficoltà e impedimenti, suona un po' bizzarro, se non altro. Tuttavia, questa è sicuramente una lettera che dimostra, da una certa altezza, l'animo turbato a Vitasso per essere le ragioni di essere più profonde. La stessa cosa, non vado a leggere di tutto, ma il passaggio è, la troviamo in un'altra lettera, anche questa abbastanza scoperta rispetto a questi elementi di timore che Tasso manifesta e a queste testimonianze che fa piuttosto allarmanti del suo stato, della sua condizione mentale. Un altro piccolo gruppo di lettere, che sono anche queste, molto celebri, questo è un numero molto ristretto, probabilmente non sono da ricondurre a una sorta di quadro clinico della propria condizione, ma sono lettere in cui Tasso, come si dice, parla in modo coperto, cioè si riferisce ad alcune situazioni dei personaggi della corte per indicare qualcuno che gioca contro la sua stabilità mentale, ma non è così un'espressione diretta come queste che troviamo in questo caso. Allora, come dicevo prima, sicuramente la critica, la lettura, il lettore più comune, il lettore più raffinato, si è trovata a far conto con queste lettere. Inevitabile, bisogna in qualche modo prendere atto che esistono, ma che sono una testimonianza evidente di quella follia che poi è diventata così alimento della mitografia persiana. E tuttavia, come dicevo prima, al di là di dimostrare una sorta di stato di precarietà, di condizioni difficili, vanno messe su una bilancia assieme a tutte le altre che abbiamo visto in precedenza. A uno stato di incertezza di alcuni momenti corrisponde a uno stato di grande felicità creativa. Se un acquisto importante è stato fatto dalla critica tassiana negli ultimi 30-40 anni, è stato quello di rileggere con una lente diversa il cosiddetto secondo tasso. C'è il tasso che dalla stagione di Sant'Anna in poi comincia a scrivere. Perché una vulgata voleva che il secondo tasso fosse, sulla base della testimonianza di queste, non solo di queste lettere, ma dell'insieme della lettera di Sant'Anna, un po' da stanco, affaticato, ormai privo della creatività della gioventù, schiacciato da un peso della riduzione che rendeva le sue opere legge. Tuttavia, si può riconoscere che siano altre le ragioni di fare poetiche tassiana, ma certamente non nella seconda parte della sua stagione, certamente non per motivi di stanchezza o di scarsa lucidità. Sono semplicemente un nuovo progetto letterario che dà sommature in anni certamente molto difficili, ma furcose. Non dobbiamo dimenticare che questo anno si trova effettivamente chiuso, rinchiuso in una situazione da cui deve uscire e l'unico modo per farlo è scrivere. Scrivere lettere, scrivere lettere che abbiano la capacità di rompere questa sorta di barriere invisibile che lo tiene chiuso dentro una stanza. Allora, per concludere, arrivo, per un po' l'effetto facile, se volete, dal punto di vista argomentativo, all'ultima lettera che abbiamo conservato dei tassi, non siamo qui a Sant'Anna. È l'ultima lettera che abbiamo conservato scritta pochi giorni prima di morire. È una lettera che, insomma, risuona di molti dei temi che abbiamo provvisto attraversare l'epistolario specie nel periodo di Sant'Anna. E la leggo rapidamente. Che dirà il signor Antonio quando dirà la morte del suo caso? Adesso comincia a sentire il rischio che un nuovo problema di salute sia quello che lo porterà alla morte. E per mio avviso non tratterà molto l'anno bello. C'è una novità non tratterà tra l'altro. Perché mi sento il fine della mia vita. Non essendoci potuto trovare mai rimedio a questa mia fastidiosa indisposizione, sopravvenuta alle molte altre mie soldi. Quasi rapido torrente nel quale, senza poter per alcuni dei temi, è chiaramente essa rapida. Non è più tempo che io parli della mia ostinata fortuna. Sono i temi che abbiamo visto già dalla canzone al metallo. Per non dire dell'ingratitudine del mondo. Un altro elemento forte che attraversava tutto l'epistolario di Sant'Anna. La quale ha voluto, ha pur voluto, avere la vittoria di condurmi alla sua cultura. Delle mie amiche, cioè povere. Quando io pensavo che quella gloria, che malgrado di chi non vuole, avrà questo secolo dei miei scritti, non fosse per lasciarmi in alcun modo senza il mio argomento. E' ancora il proeta che mira dalla gloria e si aspetta qualcosa. Eppure, nel lato di congelarsi dalla vita, che senta una scrittura di quasi, ancora una volta affida a una lettera una sorta di ultimo momento per esistere. O, come suggeriva nel titolo di questa ripositiva, anche per congelarsi dal punto della vita. Allora, concludo. L'osservazione che i papardi fanno, scusi Paterone, che le lettere in tasso sono delle parti più vive, più vitali, più forti della scrittura cristiana, forse si capisce anche in virtù di questo attraversamento. Non è solo l'autoricato, classicamente atteggiato, che si potrebbe fare la lettera del padre, ma, in alcune di queste lettere, serveggia tra inquietudine, razionalità, difficoltà, di tratta di un uomo sicuramente malinconico, ma che alla scrittura affida moltissimo del senso del suo esistere. Grazie. Grazie. Ringraziamo il professor Tomasi per questa bella lettura dell'epistolario passiano, in particolare della parte relativa alle lettere da Sant'Anna. Io non so se qualcuno ha domande da fare al professore, sicuramente l'intervento suscita curiosità e interesse, forse l'ora tardi, l'ora tardi suggerisce... Una domanda di natura filologica. In quel gruppo hai parlato di intercessioni di bilancio postale, di perdita, diciamo, di arrivare al pubblico da parte di scritture che sarebbero private. Di quella sezione di Sant'Anna che erano 469 lette, quante sono state lette dai contemporanei di Tasso e quante invece sono state rituate dal progettivo? Sì. Non so se è stata mai fatta questa notizia. No, esatto. Una risposta netta non ce l'ho. Noi abbiamo la testimonianza del controllo direttamente dal tasso stesso, dal sussilamento del fatto che non abbia rinno una lettera e soprattutto chiede l'intercessione a Luca affinché le lettere che lui inviare quindi siamo sicuri che ci fosse un filtro. E comino restante? Sì, comino restante. Stanno anche quelli dell'altro giorno? Sì, sicuramente sì. Quindi alla fine le lascio filtra, un po' come quella lettera che dice no? No, però sì, certo. E sul dato di cosa non è stato, di cosa non è giunto, è difficile da non risposta netta. Però è che molte delle testimonianze epistolari, proprio perché Tasso continua a ripetere anche nella sua lettera, di non avere mandato le copie, di aver perso tutto chiede ai suoi destinatari di utile averle indietro. Quindi è presumibile che quelle che noi abbiamo conservate siano levate a destinazione perché sono i destinatari o gli archivi della famiglia nobiliare che sono destinati a avere lettera per averle conservate. Ma e sull'unità del buon'edificio, soprattutto la prima parte delle richieste d'aiuto le ruote dei vari corti. Visto che appunto dovevano bastare il filtro della censura o comunque del controllo del Duca, quindi era politica a farne passare, non era imbarazzante appunto per il Duca magari. Questo, non lo so, credo che il problema, credo che da una risposta molto poco informale diciamo così. Credo che il Duca, quello che vi ho cercato anche di dire, Tassu fosse un grande problema, un grande problema, un grande problema. Sì, esatto, sì. intercedere il professor Duca finché possa uscire in fondo, non era un oggetto, non era una cosa scandalosa. Mentre il tema religioso poteva diventare ulteriormente imbarazzante per il Duca. Grazie. Bene, se non ci sono altre domande direi che possiamo congedarci e darci appuntamento per le prossime letture nel mese di febbraio con Elisabetta Selmi e poi in chiusura con Inza Carminati per vedere i libri di lettere femminili e i libri di lettere Bergamo ancora una volta con Comin Ventura e con Torquato Tassu, Torquato Bernardo Tassu, forse anche Ercole. Vedremo. Non rispondere. Non rispondere. Sembra nella facoltà di non rispondere. Bene, per ora. Bene, grazie mille. Grazie. Grazie.